Salve a tutte e salve a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi abbiamo con noi Carmen, che ci ha aiutato a realizzare questo tutorial per celebrare il Dia dello Smuertos, il giorno dei morti, e soprattutto un personaggio in particolare. La calavera, Catrina. Noi abbiamo visto Il Libro della Vita, un film meraviglioso, veramente meraviglioso. E abbiamo voluto celebrare il Dia dello Smuertos con questo tutorial. Vi invitiamo a spolliciare in su se vi piace, ovviamente. Comentate, iscrivetevi al canale e seguiteci su Facebook. Mi raccomando, Il Libro della Vita, consigliamo anche la visione del film, perché celebra la morte come un passaggio in un mondo colorato e felice, dissacrando quella che è l'idea cupa di morte alla quale noi siamo abituati. Sperando sia di vostro gradimento, auguriamo una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.